Dopo 25 anni mi sembra che vado avanti ancora bene in quest'attualità, ma non può che far piacere. Vuol dire che l'obiettivo è stato incentrato. Si spera sempre che dopo il 25 ci sia il 26, il 27, il 28... Magari ripeto, magari non sotto la stessa veste insomma, però perché no? Perché non continuare? Non per caso, ma alla fine... L'importante è stare insieme e divertire. Poi se in futuro si chiamerà Paglio di spiace o Paglio di... Mijiii! Oh Paglio di spiace o Paglio di scuola! L'importante è stare insieme di diverti! Ma quest'anno, gli 25 dovevamo vincere noi! Non c'è storia! Speriamo che la via fortuna gini un po' da questa parca! L'anno scorso sono andati vicini, molto vicini, è un caso di un punto, una porta di funzione dall'altra parte, quindi speriamo che ci rivalriamo quest'anno, l'anno scorso già mi ricordavo che alla fine dicevano, ma qua sono 25, chissà mai che proprio il 25esimo ha una pirotta stavolta, la spunta. Allora, assieme, tanti auguri. Tanti auguri e altri 25? L'augurio che prosegue a questo palio che arrivi al cinquantesimo. Il comitato organizzatore è quello di arrivare nelle nozze d'oro. Io spero che ce ne siano altri 25 dei pali. Questo è il mio augurio. Spero, eh, quello, visto che... Che non parlo, vedi a pirotta nella purnassa, parlo a spiatese. Spero, se ci siano ancora... Altri 25? Altri 25 ne ho tanti che abbiamo. Ma bisogna lavorare tanti. Le maniche... Tutti? Tutti, tutti, tutti. Inserire altre persone... Per le cercare... Per le cercare... Mi stai riprimendo, lì, così, va? Eh, sì, è un... Puoi fare anche quello, eh! Eh, lo sapete? Andiamo avanti, cosa? Noi... Tra poco andiamo in giro con il partito... Io... Non ci arrivo a quello che sa di... Ma fai lo stupido te qua! Io mi auguro di... Che ci sia questo ricambio e ricambio venga... E il sostituto verrà accompagnato e viene accompagnato da, diciamo, da quelli che ci sono detti. Perché non è un'azienda qua. Cambia l'amministratore delegato, arriva il nuovo amministratore delegato e fa quello che vuole. Qua... L'ho detto prima, anche se c'è l'amministratore delegato, tra virgolette, qua deve essere... Accompagnato, no? Io... Non posso che accompagnare il mio sostituto, ecco, assolutamente. Non c'è nessuna preclusione verso nessuno. Sicuramente vorrei salutare tutti. Ed in particolar modo vorrei salutare quei nuovi ragazzi che so che sono... Si sono affacciati all'interno dell'organizzazione e che possano... Trasmettere al meglio quello che forse non siamo stati in grado di fare noi. Questo è un grande auguro. E far sì che la cosa possa continuare magari fra 30 anni, che io spero sicuramente di esserci, che mi venga qui magari un ragazzino di 30 anni, no? E che mi faccia un'altra intervista, dicendo ma come hai vissuto durante questi anni qua? E auguro che la cosa possa continuare, vantare di modificare un paio, un pochino, per renderlo più festa e meno gara. Grazie a tutti. Grazie a tutti.